Moto Peer Fest, primo a memoria da Nicola, è un evento che nasce dalla voglia dei suoi amici di organizzare una serata in suo ricordo. In questa serata abbiamo radunato le sue passioni, i suoi amori per le macchine e per le moto e abbiamo deciso di riunirle tutti insieme per farlo vivere in questa notte. Durante questa serata, che ingloberà anche la notte bianca, resteranno aperti tutti i negozi di Piazza Questello, ci saranno una quarantina di bancarelle espositive, ci saranno stand astronomici e biorifici e oltretutto ci sarà un'esposizione di auto e moto d'epoca e moderne. E per tutti coloro che sforranno in proprio mezzo ci sarà il suo offerto, inoltre tutto l'incasso sarà devoluto alla Piazza Bianca di Questello. E ci aspettiamo! E ci aspettiamo!